Come sapete noi abbiamo fatto alcuni rilievi su alcuni provvedimenti, non solo della legge di bilancio ma anche della delega fiscale. Ho accolto con favore ieri l'osservazione del Ministro Giorgetti, in particolare sul patent box, che ha detto che va rivisto perché così come è stata formulata sarebbe un grandissimo errore. Sul DL Infrastrutture sapete sulla parte dei trasporti eccezionali, anche qui si è detto che si vuole intervenire per rimediare all'errore che si è fatto, quindi segnali positivi che parlando insieme si riesce a migliorare quelli che sono i provvedimenti della legge di bilancio nell'interesse del Paese. Purtroppo abbiamo una recrudescenza dei numeri che non ci fa stare tranquilli, credo che il Green Pass era lo strumento in quel momento che potevamo utilizzare, però l'unica cosa che ci può mettere a sicuro è l'obbligo vaccinale, quindi quello è un percorso che dobbiamo avere il coraggio di fare una riflessione seria. Purtroppo i dati che arrivano dal nord Europa sono preoccupanti. Parto dall'annuncio che è stato fatto l'altro giorno da parte della proprietà che ha detto che ha ricevuto tre proposte per la reindustrializzazione del sito, quindi mi aspetto di poterle verificare e di avere un'attesa che verrà soddisfatta nella qualità anche delle proposte che arriveranno. Il tema GKM però è un tema più complesso che è quello dell'automotive, purtroppo è una filiera che sta soffrendo tantissimo, lo avevamo detto come Confindustria, per due anni che lo stavamo dicendo ci siamo fatti trovati impreparati rispetto a quelle che sono le contromisure. Le contromisure non è il decretante di localizzazione, gli industriali per primi su chi fa il mordi e fuggi non lo possiamo accettare. Però poi ci sono un problema di competitività sia in Europa sia a livello internazionale. In un mercato che sta soffrendo, ovviamente abbiamo visto tutti i dati di giugno-luglio dicono 8,1% in meno rispetto al 2020, quindi capiamo di cosa stiamo parlando, è un settore che è soggetto a una transizione forte dal punto di vista energetico e ambientale, quindi un ripensamento totale della filiera dell'automotive. Accelereremo per la firma del patto per il lavoro e lo sviluppo dell'area metropolitana che può essere funzionale sia al patto regionale che a quello nazionale, dobbiamo raccogliere tutte le opportunità che stanno emergendo dopo questa crisi durissima che l'area metropolitana ha subito con il Covid e i numeri ci incoraggiano perché la crescita dell'economia fiorentina già in questi ultimi mesi supera il 6% del valore aggiunto del PIL, entro la fine dell'anno noi torneremo ai valori del 2019 ante Covid e sull'export addirittura in molti settori li supereremo. Questi sono dati molto incoraggianti, io credo che non si debba assolutamente abbassare la guardia, per ora la situazione è sotto controllo, penso che questo Natale si potrà affrontare in modo abbastanza tranquillo ma proprio per non abbassare la guardia occorre mettere in campo misure, ci sono varie ipotesi, si parla ad esempio anche di maggiori restrizioni per chi non si vaccina ipotesi avallata da molti esperti tra cui anche il professor Bassetti, io credo che quella possa essere una delle strade così come anche valutare l'obbligo vaccinale in determinati settori come già si sta facendo.